Grazie Presidente, mi perdoni ma cambio postazione perché altrimenti devo reggere il microfono. Ecco, qui abbiamo una situazione più stabile anziché quello slittamento che era un po' una sinistra metafora di quanto accadde al sistema bancario italiano dopo gli interventi di salvataggio di chi ci ha preceduto. Ecco, qui abbiamo una situazione più stabile. La discussione è stata molto interessante, io l'ho seguita con grande partecipazione, prendendo appunti e vorrei iniziare da una precisazione. Nella mia breve relazione non ho rilevato che non ci fosse necessità di illustrare il tema del decreto, ho rilevato che mi sembrava non ci fosse un grande interesse, e mi sono permesso da relatore, che deve essere una figura neutra, un piccolissimo accenno polemico, e spiegavo questo scarso interesse col fatto che le vicende sono ampiamente note, o almeno mi sembrava che fossero ampiamente note. Poi, in realtà, da alcuni aspetti della discussione generale, ho la sensazione che qualche cosa di quello che ci riguarda oggi, e soprattutto qualche dettaglio di quanto è stato evocato rispetto a vicende precedenti, forse meriterebbe una puntualizzazione. E quindi magari mi permetterò di farla, sempre rivolgendomi a lei, come il regolamento mi chiede. Voglio anche dire che scuso il fatto che spesso in assemblea non si stia attenti a chi parla, perché c'è una cosa che fuori non si sa, ma che noi sappiamo, cioè che il nostro lavoro viene dai cittadini riassunto nella formula fare leggi, o, in questo caso, una legge di conversione di un decreto, ma forse dovremmo fare tutti noi uno sforzo maggiore per spiegare ai cittadini che le leggi che si fanno in aula sono il risultato di una mediazione politica lunga, complessa, che richiede tempi e che spesso sono anche i tempi dell'aula, cioè se qualche collega è in giro per i banchi a parlare con qualche altro collega non lo fa perché manca di rispetto a me, ma lo fa perché ha necessità di raggiungere un punto di caduta su qualche cosa di cui poi magari domani ci occuperemo. Questo lo dico anche perché laddove qualcuno ci stia osservando è importante che sappia che noi lavoriamo e ci sono tanti modi di lavorare. Chiusa questa premessa metodologica, mi scuso se ha rubato tempo, entro nel merito. Devo dire che anche se alcuni colleghi hanno rilevato che la discussione generale è un momento più tecnico della dichiarazione di voto, che è ovviamente un momento più politico, questa discussione ha avuto anche dei risvolti politici. Io vorrei partire da uno di questi che ha caratterizzato le nostre opposizioni inutroque, cioè l'opposizione di sinistra e l'opposizione di destra. Entrambe ci hanno rimproverato di non saperci comportare bene sui tavoli europei, di non saper tutelare le alleanze, in particolare perché noi avremmo insultato i nostri alleati. Ora, vorrei fare una considerazione molto serena. Chi ci ha preceduto per usare un pallido eufemismo è stato spesso addirittura ossequioso nei riguardi dei nostri cosiddetti alleati, che non si sa poi bene quali siano nel quadro europeo, onestamente, dal momento che noi siamo una famiglia molto composita e che, a detta di storici importanti, io penso a Jones, ma se ne potrebbero citare tanti, vede proprio nella sua diversità il segno e la causa del suo relativo successo rispetto ad altre aree del pianeta. Quindi chi sono gli alleati non lo so. Io, come tanti altri, ho assistito negli anni passati a uno strano fenomeno meteorologico su Roma, che è una pioggia di legion d'honneur, e poi però assisto anche a atteggiamenti abbastanza poco conseguenti con la nostra accondiscendenza verso i diktat che provenivano dall'estero. Pensiamo adesso all'audizione della Festager, che qui è stata citata più volte, come segno della disponibilità, della maturità delle istituzioni europee e della loro volontà di venirci incontro. Io ieri avrei voluto parlare in inglese, mi hanno detto che non si fa perché siamo nel Parlamento italiano, ma vorrei tradurre la replica della Festager alla mia domanda. La traduco in latino. In latino è Innocence, ego sum a sanguine hoc. Questa è la replica della Festager, quella di Pilato. Perché quando gli è stato chiesto qual era la sua posizione sul fatto che il suffragio universale è una cosa rischiosa perché al suffragio universale venne salvato Barabba, allora fatalmente la mente corre a quell'episodio storico e ieri abbiamo visto Pilato. Pilato che ci ha detto Sapete com'è andata? Purtroppo una volta il mercato delle sofferenze non c'era e quindi voi le avete cedute a prezzi stracciati mettendo in crisi il vostro sistema bancario. Adesso c'è, quindi adesso le cose vanno meglio, tanti saluti e grazie. In altre parole, siete stati usati come cavie, fatti vostri. Questo è quello che ho sentito io ieri in Aula Difesa. Se qualcuno ha sentito qualcos'altro io sono ovviamente disposto a confrontarmi politicamente ma il punto è che se vogliamo veramente ragionare in termini di interesse nazionale allora bisognerebbe fare tutti uno sforzo e io prometto di farlo per parte mia e gradirei che in un mondo ideale dovrebbe essere così per evitare che quando dall'estero arrivano censure all'interno se ne goda per usarle in modo tattico e strumentale contro la parte politica avversa. Questa cosa non funziona. È dal tempo di Carlo VIII che non funziona. Mi vedo costretto a ripetermi. Quindi per essere credibili certi richiami alle istituzioni europee dovrebbero essere affiancati da questo che le nostre opposizioni nel momento in cui il Paese viene insultato e a settembre lo fu perché si parlò di un Paese in preda a tanti piccoli mussolini si unissero a noi nella ferma risposta a questo tipo di atteggiamenti e non accusassero il Governo se per la prima volta reagisce. Mi rendo conto che questa è una discontinuità. Come pure è una discontinuità secondo me quella che si introduce con la commissione d'inchiesta. È stata evocata la commissione d'inchiesta perché sono stati evocati un po' da tutti i temi relativi alla vigilanza. Qualcuno l'ha definita una sceneggiata. Ecco io con molta serenità esorterei i colleghi dell'opposizione a non valutare le nostre proposte sulla base delle loro esperienze. Quella precedente mi sembra che non concluse molto. D'accordo? E forse un motivo c'era. Era una commissione nella quale una certa parte politica giudicava se stessa sulle politiche che aveva condotto. Il giudizio della commissione è stato positivo. Quello degli elettori, lo sappiamo, fine delle trasmissioni. Adesso c'è da lavorare sul serio. E siccome siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un problema di normazione, un problema di applicazione delle norme, un problema di come la vigilanza è stata esercitata, e questo tema lo vorrei affrontare più diffusamente in dichiarazione di voto, allora aiutateci voi a fare sì che questa commissione d'inchiesta non sia una sceneggiata, partecipando in modo costruttivo. Perché nelle nostre intenzioni certamente non lo è. È stato anche evocato, e sono molto grato al collega Grimani che lo ha fatto, la contraddizione, la simmetria che esiste fra una supervisione che sempre più viene portata a livello europeo e come ciò sta accadendo, come ciò è accaduto più esattamente, perdonatemi, in tema bancario, perché ormai il processo è pressoché compiuto, ricordiamoci che sta avvenendo anche sul tema della vigilanza dei mercati finanziari. Quindi da un lato abbiamo una supervisione che si sposta sempre più a livello europeo, ma poi gli interventi rimangono in capo ai singoli paesi. Come pensiamo che possa sopravvivere e possa non incrinarsi un sistema che si basa su una asimmetria simile? Chi è in crisi viene deciso altrove. Come rimediare alla crisi? Beh, anche qui, diciamo, c'è una bella lavata di mani e siamo noi a dover intervenire. Fra l'altro va anche detto che per quel che attiene il tema generale della supervisione, noi dovremmo essere promotori in Europa di un ripensamento generale dell'approccio che viene adottato. Perché l'approccio basato sulla votazione del rischio nella determinazione dei livelli di capitale, proprio ieri sul Financial Times, veniva seriamente messo in questione per il semplice motivo che si basa largamente su valutazioni delle banche. Ora, siccome le banche vanno in crisi quando non sono in grado di valutare le circostanze, appoggiarsi alle loro valutazioni per decidere quale banca è in crisi comporta un dato ovvio, una rilevante sottovalutazione del rischio che poi si riflette sull'emergenza di incidenti come quelli del quale qui oggi ci dobbiamo occupare. Quindi c'è proprio un problema di logica dell'approccio. E questo è un problema culturale che convoca tutti noi, non è un problema di destra o di sinistra, su questo credo che saremo d'accordo. Quello che è di destra o di sinistra forse è la volontà di imporre una visione di interesse nazionale ai tavoli sovranazionali, sempre nell'ambito della solita considerazione di cornice che o l'Europa dimostra di essere un luogo efficiente per la mediazione di interessi diversi oppure dimostra di non avere particolare ragione di esistere perché risolvere diciamo così con conflitti bilaterali o anche multilaterali i nostri problemi è qualcosa che in Europa abbiamo sempre fatto sono sempre molto scettico quando si demonizza il conflitto il conflitto occorre che emerga e che sia gestito in modo efficiente. L'idea che avremo la pace per sempre ce la possiamo dimenticare ci saranno sempre dei problemi il punto è chi paga per questi problemi. Vedete qua c'è una questione anche sempre di ordine metodologico che è legata a questa. Nella mia relazione ho parlato del fatto che l'episodio del quale ci occupiamo come tanti altri ha due ordini di motivazione una motivazione di ordine generale la recessione della quale qui tutti oggi siamo consapevoli più la la mala gestione perché naturalmente siamo tutti umani anche i manager delle banche possiamo essere solleciti a interessi particolari possiamo commettere errori di valutazione vorrei portare all'attenzione dell'aula il fatto che in uno studio di due anni fa se non vado errato Luigi Zingales che è uno dei più eminenti economisti italiani insieme a Angeloni se non vado errato e a Bofondi ha fatto una valutazione della genesi dei non performing loans italiani cioè da che cosa questi non performing loans dipendessero la sua valutazione quantitativa è la seguente la percentuale di non performing loans attribuibili a fenomeni di mala gestio si colloca fra il 4 e l'8 per cento che è come dire per chi e qua ce ne saranno molti è un po' familiare con la statistica che una percentuale simile statisticamente è quasi irrilevante il problema è sistemico e allora se il problema è sistemico questo esalta la considerazione fatta dal collega Grimani perché problemi che sono sistemici e che quindi in un mercato finanziario interrelato integrato come quello che abbiamo voluto costruire forse con una certa avventatezza qui in Europa necessariamente dipendono anche dai comportamenti di operatori in altri paesi non possono essere lasciati quando si tratta di risolverli unicamente sulle spalle delle autorità e delle collettività nazionali non mi soffermo qui su un altro tema che è stato più volte evocato cioè è la coppia avete fatto come noi o avete fatto come loro o perché l'altra volta eravate contrari questo è un tema a mio avviso politico anche se ci sono dei dati di fatto che vanno messi in evidenza per verificare se veramente questo episodio sia la fotocopia di altri episodi e magari di questo preferirei parlare con maggiore ampiezza in dichiarazione di voto qui vorrei sollevare avviandomi a concludere un altro tema di carattere generale che ho visto emergere in moltissimi in moltissimi interventi della dichiarazione generale non cito i colleghi perché ritengo che sia meglio non farlo il tema della tutela del credito locale ognuno di noi ha esperienze nei propri collegi e sa che cosa significa quando le istituzioni del credito territoriale incorrono in situazioni di crisi sa che cosa significa questo per il mondo della piccola e media impresa sa che cosa significa questo per gli artigiani le famiglie insomma per la popolazione in generale qui vorrei fare due rapide considerazioni che sono anche queste visto che la discussione generale ha volato alto di ordine culturale io non capisco molto quando viene detto che dobbiamo affidarci al mercato più che alle banche che dobbiamo sostituire il debito con il finanziamento sul mercato certo la parola debito è una parola che ha una valorizzazione negativa e quindi è chiaro che nel momento in cui il credito bancario viene chiamato debito già lì è implicito che si vuole mettere l'interlocutore in una posizione di inferiorità tattica e che si vuole demonizzare il lavoro che gli istituti di credito in quanto intermediari bancari fanno ma ci vogliamo ricordare del fatto che il mercato quello su cui strutturalmente si finanziano le grandi aziende sbaglia e sbaglia pesantemente sbagliano le banche ma sbaglia anche il mercato e spesso sbaglia di più la crisi di wall street o la crisi di lehmann sono state crisi del mercato e hanno lasciato cicatrici profonde sulla storia economica finanziaria mondiale allora non vorrei che entrassimo in questa strana ottica banca piccola localistica familistica corrotta debito brutto da un lato e mercato rigeneratore sano incorrotto moralizzatore e finanziatore delle buone pratiche aziendali dall'altro perché non è così non è così nei fatti e non è così neanche nella volontà o forse dovrei dire nella capacità operativa del regolatore europeo che ieri è venuto qui a dirci che lui non si preoccupava del fatto che per esempio la gestione delle sofferenze fosse in mano un oligopolio ora un oligopolio non è il mercato è semplicemente un posto dove 4 o 5 persone si mettono d'accordo per fare il prezzo mi avvio a concludere credo di aver risposto a pressoché tutti i temi sollevati torno sul punto però che l'esigenza di tutelare il credito territoriale il patrimonio delle casse di risparmio il patrimonio delle banche di credito cooperativo è fortemente avvertita da questo governo tanto più ora in un momento in cui vediamo profilarsi all'orizzonte un nuovo rallentamento dell'economia mondiale in cui è assolutamente indispensabile quindi che la parte sana della nostra economia reale non sia affidata all'isteria collettiva dei cosiddetti mercati ma sia sostenuta da un sistema creditizio vicino ai territori e alle loro esigenze grazie Presidente grazie Senatore Bagnai